punto di partenza qui ed ecco segale in discusa il comunico da mazzi questo da 50 anni quindi adesso è 11 maggio 2022 qualche ci sta qualche albero castagno e allora adesso sentieri che quasi nessuno fa quasi qualcuno ha qui mangiato da qualche pacco questo non è il finocchio della famiglia il finocchio non so ma si chiama si sale si sale camminando camminando si vede benissimo questo magnifico incantevole percorso eccolo qui all'improvviso si apre davanti a noi questo incredibile palcoscenico naturale ecco qui la parte estrema sud est del comune di luco dei marzi però si evidenzia che la nube qua sale man mano sopra secondo me avrebbe piove pomeriggio vabbè esatto attraverso questo sentiero si sale sale questo conduce a ghialanza a ghialanza senti però adesso sai che faccio siccome io c'ho da fare che lo so adesso vabbè no no continuo 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 a salire tu pensa questa prima questa montagna era pastonata qua non c'era più un albero tutto di sboscata adesso c'è una ricrescita guarda il sole cominciò a secarla